Allora, signori per una volta dobbiamo cambiare mantenità, dobbiamo continuare a credere, dovete continuare a credere nei vostri figli, i vostri figli si devono impegnare, devono fare sacrifici e devono ottenere i propri risultati per le proprie capacità, non per la scorciatoia. Il futuro appartiene a chi ha dei sogni. Benissimo, Beppe diceva che quando c'è un milione di persone che hanno lo stesso sogno e noi abbiamo lo stesso sogno, quello di vedere una regione diversa, allora quello non è più utopia, quello è il futuro. Prendiamocela insieme. Buonasera, io mi chiamo Fabio Fortuna, sono Di Pachino, sono un avvocato civilista e penalista. Non voglio oscurare perché giusto giusto sono appena arrivati i nostri big, quindi sarò brevissimo. È da diversi anni che mi occupo di tematiche inerenti alla collettività, sia sotto il profilo professionale sia sotto il profilo squisitamente politico. Sotto il profilo professionale ho vinto quella che è la prima class action tributaria della Sicilia contro un ingiusto aumento della vecchia tassa sui rifiuti del comune di Pachino. Dal punto di vista politico, insieme al meetup di Pachino abbiamo fatto diverse azioni, soprattutto finalizzate al controllo amministrativo, quindi spulciando gli albipretori e facendo segnalazioni all'ANAC di Raffaele Cantone. Ora, in queste campagne elettorali sto girando lungo e largo e spesso sento tacciarci di una critica, cioè che parliamo solo degli altri, parliamo solo delle cosiddette impresentabili. Ecco, volevo spendere solo due parole sulle cosiddette impresentabili. Per noi il concetto di essere impresentabile è una precondizione politica, cioè dovrebbe essere una prassi di opportunità per cui il cittadino che è, come dire, coinvolto in determinati loschi affari, oppure ha già delle condanne penali, oppure ha delle frequentazioni così diciamo un po' sospette, sarebbe opportuno che non si presentasse. Ora, quest'anno incredibilmente la commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi darà a noi cittadini la lista degli impresentabili solo dopo le elezioni. Ora, voi capite che non ha nessun senso dare la lista degli impresentabili dopo le elezioni. Le devono dare prima, come fu ad esempio per la regione Campania l'anno scorso con De Luca. Non riusciamo a capire se è una presa in giro, una presa per i fondelli, oppure davvero ci vogliono fare credere che siamo stupidi e la gente non deve sapere chi sono gli impresentabili e devono saperlo a votazione avvenuta. Ma voi sapete bene, cari cittadini, che a votazione avvenuta si potrà applicare eventualmente solo la legge Severino, ma per la legge Severino ci vuole una condanna in primo grado. Badate bene. Quindi, ripeto, non riusciamo a capire. Ora, io contro questa tesi degli impresentabili parlo di programmi elettorali. Qui abbiamo Giancarlo Cancelleri e, come dire, parlerà abbondantemente di agricoltura, di turismo e soprattutto una tematica che a me sta molto al cuore perché io sono di Pachino, Maria Marzana e di Rosolini e sono i due comuni in Europa con la più alta irradiazione solare e ancora ad oggi l'eolico e il solare, il fotovoltaico è qualcosa di sconosciuto. Grazie. Buonasera a tutti, sarò brevissima per dare la voce a Luigi e a Giancarlo. Mi chiamo Teresa Lauria, sono di Priolo, famoso per il sindaco arrestato. È importante. Io stasera ho potuto fare il comizio a Priolo, lui no. E ho avuto una bellissima risposta. Quello che vi voglio dire, concludo, dovete convincere le persone ad andare a votare perché io non voglio più vedere un coltrano, io non voglio più vedere un genuso, io non voglio più vedere un sorbello là. Persone che ci hanno creato i problemi e ci dicono di risolverci. Non è più possibile. Grazie. Salve, è solo qualche istante. Giorgio Pasqua, anch'io da Priolo. Io però sono costituito parte civile nel processo che ha il mio sindaco, che si chiama il processo Qualunque Mente. Vi ricorda qualcosa, vero? Ecco. Il problema sapete qual è? Che io sento e leggo dagli atti processuali cose davvero che fanno di non ridire. Queste persone sono quelle che hanno depredato i vostri soldi, i vostri soldi e non hanno permesso a voi di avere servizi migliori. I servizi di assistenza agli anziani, le strade sistemate. Dobbiamo finirla con questo sistema. Tagliamogli le gambe a quelli che utilizzano questi sistemi. Chiudo qui. È meglio che vi ascoltate Giancarlo e Luigi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. A voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie davvero per essere qui. Grazie. Siete la carica e l'energia. Siamo stanchi. Si vede che siamo stanchi. Ma combatteremo con tutto il fiato che abbiamo in corpo affinché queste persone non vincano ancora le elezioni per liberare la nostra terra. Ce la letteremo tutta fino all'ultimo giorno. Io in questi giorni l'ho raccontato, l'ho detto, l'ho denunciato. Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato perché quegli altri hanno le liste piene degli impresentabili. L'hanno detto poco fa. Io ci voglio ritornare in questa apertura del mio intervento. Sono molto preoccupato perché queste persone stanno di nuovo proponendosi per andare a governare la nostra regione. Liste zeppe di condannati, di arrestati, di persone che stanno ancora continuando a chiedere il voto dei cittadini siciliani. E dall'altra parte il capo della coalizione, il candidato alla presidenza che dovrebbe garantire le liste pulite, nell'uovo su meggi cosa va? Fa come in un ponzio pilato qualunque, se ne lava le mani. Io ho chiesto, dice, io ho chiesto ai capi, agli segretari dei partiti che mi sostengono di fare le liste pulite, di non candidarli. Ma non mi hanno ascoltato. Ebbè, è una posizione debole. E allora se non ti ascoltano adesso come pensi che ti ascolteranno se dovessi vincere le elezioni. Perché ti controlleranno, ti comanderanno, cominceranno a scegliere per te. E allora la verità è che il programma a questa gente glielo sta scrivendo Micichè, glielo sta scrivendo Cuffano, glielo sta scrivendo Lombardo, glielo sta scrivendo Gerovese, glielo stanno scrivendo gli arrestati e i condannati delle sue liste. Questa è la realtà. E io però, una persona che si fa comandare, una persona che si è fatta comandare dei partiti che lo sostenevano, la conosco. E la conoscete anche voi. Cusueggi è il crocetto del centrodestra. È questa la verità. E io sono molto preoccupato, sia per questa fase, sia per questa immagine, ma soprattutto per il fatto che quelle condanne, quegli arresti, i capi di imputazione che gli rivolgono e che gli contestano, non sono fini a se stessi. Pensateci. Sono tutte le lamentele che ogni giorno noi abbiamo della nostra terra. Sono tutti quei servizi che ci mancano. Sono tutte quelle opportunità che non abbiamo avuto. Perché quando al sindaco di Priolo gli contestano il fatto di avere sottratto fondi per i poveri e li ha dati a finti poveri in cambio di voti, sta avvenendo meno il senso del welfare sociale, il senso dei servizi sociali che dovremmo garantire nelle città. Quando qualcuno distrae i fondi per costruire opere pubbliche, ci sta mancando un'opera pubblica, ci stanno mancando le strade, ci stanno mancando i porti, ci stanno mancando le ferrovie. E allora io sono preoccupato proprio per questo, perché non possiamo continuare ancora a legittimare con il nostro voto persone che hanno fatto mancare a noi e ai nostri figli le possibilità di una terra normale e civile. Questo è il senso. Lui adesso sta facendo ieri, ha fatto una cosa che mi ha fatto ridere tantissimo. Ha fatto un appello al voto utile. Ha detto a quelli del centro-sinistra non votateli, non votate il vostro presidente, votate per me. Richiama il voto utile di quelli di sinistra, di quelli di centro-sinistra, di quelli del Partito Democratico. Definendo oggi e addirittura stasera dicendo che chi vota a Micari vota per il Movimento 5 Stelle. In realtà queste sono le parole di una persona che è dietro, è una persona che sta perdendo ed è molto preoccupato e sta facendo un appello del genere, è incredibile. Ma soprattutto è ancora più incredibile per il fatto che i voti della gente per bene di destra e di centro-destra, lui li ha persi, perché le persone per bene che ci sono a destra e nel centro-destra non lo voterebbero mai uno con Miciche, uno con Cuffaro, uno con Lombardo e uno con Genovese. Non lo voteranno! E allora ho capito che gli sta mancando il terreno sotto i piedi e si rivolge dall'altra parte. Dobbiamo invece rivolgere un pensiero, un pensiero a tutte quelle persone che con le mani libere devono esprimere il voto. Sono quelle persone che dovranno cambiare la Sicilia, sono quelle persone che dovranno finalmente dettare quello che è il cambio radicale della nostra terra. 5 milioni di siciliani, 5 milioni di pensieri nuovi cambiano la Sicilia, non le cambieranno le elezioni del 5 novembre. Sarà il nostro atteggiamento culturale, il nostro atteggiamento culturale nuovo, finalmente di mettersi in gioco, finalmente di riscoprire il senso di comunità, finalmente di capire che dobbiamo cominciare davvero alla solidarietà, ad aiutarci gli uni con gli altri, a chi sta meglio che deve aiutare chi sta peggio. Questo è quello che dobbiamo riscoprire di nuovo e non ha niente a che fare con quel tipo di politica che stanno facendo loro. La politica dell'insulto ogni giorno, a me me l'hanno detto di tutti i colori, mi hanno detto che mi nutro di sangue umano, che sono un vampiro. È incredibile, una critica del genere non ha nulla a che fare con la politica. Mi ha anche accusato per la mia vita, per la mia professione, mi ha detto che sono, mi ha definito disprezzandomi. Lui è un geometra. A questo paese l'hanno costruito le persone normali. A questo paese l'hanno costruito tutti. A questo paese l'hanno costruito i muratori, l'hanno costruito gli artigiani, i paligiani, e l'hanno costruito anche i geometri, i regolieri e anche i laureati. L'hanno costruito persone per bene. E il titolo di studio non c'entra assolutamente nulla. E ve la dirò di più, perché allora lui la storia non ve l'ha raccontata tutta, ve la racconto io, la mia storia, ve la racconto tutta. Io in 15 anni ho lavorato per un'azienda privata e ho fatto anche il geometra, ma ho fatto anche il magazziniere, ho avuto le mani sporche di grasso. Non di soldi rubati, di grasso. E questa cosa non mi spaventa, non mi ha mai spaventato né il lavoro, né il lavoro di unito solo resto. Dobbiamo rivenditarlo con forza chi siamo. E là dobbiamo dire a questa gente che se si vuole confrontare, io glielo chiedo da 20 giorni, di confrontarsi sulle liste pulite e sui programmi. Sulle liste pulite ve lo dico chiaramente, io il confronto con lui non lo voglio più, perché lui si è confrontato con i tribunali e l'ha perso il confronto. Adesso confrontiamoci sui programmi se vorrà. Il 29 di ottobre Lucia Annunziata sulla RAI sta organizzando un confronto per i candidati. Io spero che vengano tutti, ma spero soprattutto che venga lui e che non continui a scappare come ha fatto in questi giorni. Continuare a scappare per non confrontarsi, per parlare dei problemi reali e delle soluzioni dei problemi dei cittadini della Sicilia. Perché dovrebbe essere questo il senso di una campagna elettorale. Fare scegliere alla gente liberamente quali sono le idee migliori in campo. Alla fine una persona libera si crea il proprio pensiero su chi votare proprio per quello. Si crea un proprio pensiero proprio su quello che sta avvenendo, cioè sui programmi, sulle idee. Allora si va a convincere da quello che dovrebbe essere così. Noi stiamo mettendo in campo un programma di 100 pagine, 103 per l'esattezza. Ci hanno aiutato tantissimi cittadini, ci hanno aiutato luminari, esperti, ma ci hanno aiutato anche persone semplici, persone che vivono ogni giorno determinate problematiche e hanno anche ipotizzato delle soluzioni e sono valide. E allora abbiamo scritto questo programma che è un manuale di istruzioni per la Sicilia. Serve per risolvere tutti i problemi della gente. È un programma in divenire. Accoglierà altre proposte, ancora altre proposte. Io ogni volta che finisco un comizio dopo c'è sempre gente che mi porta un po' di idee. Guarda, ho scritto un'idea, ti do un foglio. Ed è importante questo, perché porteremo la voce dei cittadini dentro le istituzioni. E io spero di portarle dentro la presidenza della regione, quelle idee dei cittadini. Ma questa cosa è importante anche perché ormai conosciamo le priorità, quello che ci serve. Il lavoro, investire nelle imprese, le infrastrutture, la sanità di qualità. Ipotizzare, immaginare, avere una visione su questa regione che deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Ma non a parole, con i fatti. E allora cominciamo a parlare di quello che avviene. Cominciamo a parlare un po' di programma. Vediamo se è in grado, vediamo se saranno in grado gli avversari di tenere un banco e parlare di programma. Io vi parlo di lavoro. Io vi parlo di una politica che negli ultimi vent'anni ha risposto alla legittima richiesta di posti di lavoro da parte dei cittadini, creando lavoro nel pubblico e create il precariato. A quelle persone che oggi da 25 anni stanno dentro gli enti locali va il mio affetto e soprattutto dobbiamo risolvere la dignità al lavoro. Dobbiamo darglielo un lavoro vero. E allora io spero che se vinciamo di ritrovarmi poi di fronte a livello nazionale Luigi Di Maio come Presidente del Consiglio, per riuscire ad avere un venuto e risolvere quello che potrebbe diventare una bomba sociale. Ma la cosa importante sarà quella di rivolgere appunto il maggiore aiuto. Come sapete io ho già nominato parte dei miei assessori e già l'assessore agli enti locali sta lavorando affinché questa soluzione del problema possa arrivare. Sta cominciando già a strutturare un'ipotesi di trattativa con lo Stato, in conferenza Stato-Regioni e ci andremo in maniera incisiva, in maniera autorevole, perché vogliamo risolvere davvero questo problema. Però oggi dobbiamo cominciare ad avere una visione diversa che non è più quella di investire nel pubblico e far diventare come idea. Non crea posti di lavoro reali. Dobbiamo cominciare a pensare alle imprese che sono l'unico volano di investimento. E allora noi abbiamo detto che vogliamo creare un istituto regionale pubblico di investimenti, fondendo le tre partecipate regionali che si occupano di credito alle imprese, l'IRFIS, la CRIAS e l'IRCAC, che in questo momento stanno funzionando male, danno risposte troppo lente e che non rappresentano una valida alternativa per chi oggi fa imprese a qualunque livello, da quelle artigiane, commerciali, agricole, della pesca, industriali e quant'altro. E allora l'Istituto regionale di investimenti dovrà avere però una caratteristica, innanzitutto lo dovremo dotare di soldi, una parte di fondi comunitari e una parte del bilancio regionale. In cinque anni metteremo a disposizione di questo istituto un miliardo per l'occupazione e per le imprese. E gli daremo un mandato, un mandato specifico, gli diremo vai dalle imprese migliori che ci sono nella nostra terra, vai a parlare con loro, perché se sono bravi, se si sono riusciti a sviluppare, nonostante la politica, nonostante la burocrazia, nonostante la regione siciliana, allora vuol dire che ce la possono fare e dovrei dirgli questo, tira fuori i progetti che hai nei cassetti, te li finanzio, perché devi continuare a crescere ancora e creare ancora sviluppo e posti di lavoro. Ma dall'altra parte dobbiamo rivolgerci anche a quelle imprese che in questo momento non ce la stanno facendo, rischiano di uscire fuori strada. Magari hanno un errore di progettazione industriale, magari il loro prodotto sta uscendo fuori mercato, dobbiamo riparle, dobbiamo salvaguardarle e rimetterle di nuove ingarreggiate. Entriamo nella loro amministrazione, facciamo un piano di riconversione industriale, li rimettiamo di nuove strada, li facciamo riprendere di nuove velocità e poi usciamo, tanto gli imprenditori il loro lavoro lo sanno fare e lo fanno bene. Entra la seconda fase poi del patto con le imprese, che dovrà essere quello di dire a queste persone voi questi investimenti, visto che l'istituto regionale è pubblico, ce li dovete restituire ad un tasto di interesse molto basso, ma potete anche decidere di allontanare il pagamento della prima rata e quindi l'inizio del pagamento di questo prestito di uno, due, cinque, fino a dieci anni. Come fare? Assumendo. Più persone assumi, più la prima rata si comincia ad allontanare, fino a dieci anni. Questa cosa non ce la siamo inventata noi, questa cosa la stanno facendo in Svizzera già da cinque anni, questa cosa l'hanno fatta in quei paesi dove con mentalità molto intelligente, con un'intelligenza specifica, hanno capito che durante un periodo di crisi la cosa migliore non è tagliare i servizi, fare l'austerity, aumentare le tasse ai cittadini come hanno fatto da noi, ma è investire nell'unico comparto che può creare ricchezza e posti di lavoro, nelle imprese private. E allora li avrete visti i presidenti delle camere di commercio della Svizzera girare tutta l'Italia e venire a cercare le nostre imprese. E sapete cosa gli dicevano? Gli dicevano questo. Cioè noi ti aspettiamo in Svizzera se vuoi. Ti diamo un capannone, ti diamo delle infrastrutture, ti diamo tutte le utenze che vuoi. E in più se assumi il 100% degli operai di nazionalità Svizzera per dieci anni non paghi le tasse. E ci sono stati imprenditori che hanno vacillato. C'è stata gente che mi ha detto ma sai ma una proposta del genere è irrinunciabile, io quasi quasi andrei. Qualcuno non è andato perché ama troppo questa terra. Qualcun altro invece è andato via. E abbiamo perso una ricchezza, abbiamo perso delle imprese interessanti e importanti. Ecco dobbiamo farle ritornare tutte. Dobbiamo cominciare a lanciare un messaggio a tutti quelli che vogliono fare imprese a noi che qui è possibile e li stiamo aspettando. Questo è l'unico modo che io conosco per fare ripartire il lavoro. Questo è l'unico modo intelligente per fare ripartire il lavoro. Ma tutte quelle imprese che oggi, perché la partita la dobbiamo giocare a Bruxelles, anche a Bruxelles, a tutte quelle imprese che oggi vi dicono quando incontriamo i pescatori, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani mi dicono che però i trattati comunitari a noi ci stanno uccidendo. Arrivano prodotti dall'estero e fanno una concorrenza sleale. Loro non hanno lo stesso costo del mercato del lavoro, loro non hanno le stesse regole, loro possono utilizzare quello che vogliono. E allora in Europa in questi anni hanno firmato i trattati UE-Marocco, UE-Paesi del Mediterraneo, gli accordi con la Cina, gli accordi con il Canada per far arrivare il grano. E i nostri agricoltori sono in questo momento in grande difficoltà. I nostri pescatori sono in grande difficoltà, quelli che tradicono odio sono in grande difficoltà. E che cosa facciamo? La politica in questi anni ha risposto facendo conferenze stampa, titoli, titoli sui giornali, stiamo provvedendo, facciamo questo, tuteliamo. Poi alla fine le azioni reali che sono rimaste quali sono? Perché io i problemi che conosco da cinque anni, che sento dirmi da cinque anni, non sono cambiati. In queste campagne elettorali li sento ancora e sono identici, anzi si sono acutizzati, sono peggiorati. E allora noi abbiamo un ufficio a Bruxelles. È la vera notizia di questa campagna elettorale che mentre tutti i candidati, ogni campagna elettorale dicono che è vergogna l'ufficio a Bruxelles, ci costa due milioni di euro l'anno, lo chiuderemo, quella è una vergogna. Poi vincono le elezioni e non l'ha chiuso mai nessuno. Ci piazzano i trombati alla politica, ci piazzano i loro amici, ci piazzano le persone dei loro partiti, quelli che hanno le tessere in tasca perché devono dargli una rendita. Allora intanzitutto c'è una notizia a dire che il reddito di cittadinanza in Sicilia i partiti lo hanno fatto per pagare gli stipendi ai trombati alla politica, per pagare gli stipendi agli incapaci, per pagare gli stipendi a tutte queste persone che hanno dovuto tutelare. Questo ufficio invece noi non lo vogliamo chiudere, noi lo vogliamo potenziare, lo vogliamo rinnovare, lo vogliamo aumentare nella sua caratura. È un ufficio importante. Dovranno esserci due squadre di tecnici. La prima squadra dovranno essere i rappresentanti delle imprese di tutte le categorie e dovranno, per conto in nome della regione siciliana, pagati dalla regione siciliana, andare a parlare con tutte le forze politiche del Parlamento europeo, anche quelle degli altri paesi, soprattutto con quelle degli altri paesi e scoprire quali altre province nella periferia della comunità europea stanno morendo per via dei trattati comunitari, perché avremo sicuramente altri paesi che stanno vivendo i nostri stessi problemi e allora dovremo fare un accordo con loro diplomatico, dovremo cominciare a tirare dentro un voto a favore a noi per un voto a favore a loro e rimettere in piedi quello che è il senso di comunità europea, comunità, è diventato soltanto un'unione degli stati e delle banche invece, facciamolo diventare di nuovo comunità. E l'altra squadra devono essere invece dei manager che devono cominciare a cercare tra i mercati europei ed internazionali compratori per le nostre merci, compratori per le merci delle nostre aziende siciliane e io vorrei che in quell'ufficio ci fossero incontri fra i nostri produttori, le organizzazioni dei nostri produttori, i nostri artigiani, i commercianti, le associazioni di categoria che li rappresentano, perché vorrei che in quelle scrivanie si firmassero contratti di vendita, perché vorrei che in quelle scrivanie si firmasse il nuovo sviluppo, il nuovo lavoro per la nostra terra. E' questo quello che vogliamo fare sul lavoro, e' questo quello che vogliamo fare sulle imprese. Non ci sono altre ricette, tutto quello che ci raccontano gli altri sono ancora misure di assistenzialismo che non vanno più bene. Ogni volta che abbiamo messo un trombato nella politica o un incapace alla guida di una partecipata o di un ente regionale non abbiamo semplicemente dato uno stipendio a quella persona e abbiamo perso quei denari. Abbiamo fatto mancare un'opportunità alla nostra terra. Ogni persona, ogni trombato, ogni incapace nominato alla guida di un ente erano possibilità in meno e dieci nostri giovani laureati con i nostri sacrifici, i sacrifici dei genitori, che se ne andavano via perché qui il lavoro non lo trovavano. E' stato questo, questo. E allora rimettere le cose a posto non è semplice, ma è doveroso e lo dobbiamo fare. E per fare imprese ci vogliono le strade, ci vogliono le autostrade, ci vogliono i porti, ci vuole una buona connessione con gli aeroporti, ci vogliono le ferrovie. E allora dobbiamo cominciare a parlare una lingua nuova. Io li ho incontrati i presidenti delle due aziende di Stato. Anas e Rete Ferroviaria Italiana. Sono andato lì davanti e ho detto signori, buongiorno, mi fate capire qual è il vostro piano di investimenti per la mia terra. E allora mi hanno fatto vedere Armani di Anas e mi ha detto, sai dice noi abbiamo intenzione di arrivare alla Palermo Catani e già abbiamo coningiato a stanziere delle somme, ma le dirò di più nel 2015 abbiamo speso 250 mila euro in manutenzione. E la Palermo Catani è i 250 chilometri circa, hanno speso 1000 euro al chilometro in manutenzione, hanno tappato delle buche, avranno rifatto due linee bianche, avranno cambiato un catarifrangente. È vergognoso, è vergognoso. E la stessa cosa a Rete Ferroviaria Italiana, mi ha detto che il nostro più grande investimento per la Sicilia è collegare Messina, Catania, Caltanissetta, Termini Merese, Palermo e Punta Raisi con l'alta velocità. E io ho detto che il resto della Sicilia, onorevole, il resto della Sicilia non abbiamo ancora i progetti e i soldi per realizzarli. Quindi condanniamo ancora la zona di Trapani ad avere il treno a gasolio, la zona del Ragusano e del Calatino ad avere ancora il treno a gasolio, la provincia di Siracusa ad avere l'unica linea che arriva a Siracusa con un unico binario e tutte le altre a non avere neanche un metro, un metro come a Sciacca, un metro di ferrovia. Ancora! Bene, signori, allora facciamo in questo modo. Se il 5 di novembre il popolo siciliano mi darà il mandato da Presidente alla Regione, io vi chiederò nuovamente un incontro. Sììììì! Aspetta, aspetta, che non vi ho detto niente, aspetta. Vi chiederò un incontro e vi verrò a dire questo. Io non sono più disposto a tollerare che il popolo siciliano venga trattato come una regione o un popolo di serie B. Voi avete investito miliardi di euro in infrastrutture nelle altre regioni italiane e noi siamo il quarto mondo fra le infrastrutture. Voi avete il dovere e io lo pretendo e non ve lo chiedo per favore, lo pretendo che voi veniate ad investire, ad aprire cantieri e a fare nuove infrastrutture in Sicilia e lo pretenderemo con incisività e con autorevolezza, con quello che dovrebbe essere davvero il rappresentante del popolo, il Presidente della Regione. E anche lì spero di trovarmi a fianco un governo amico che possa dare una spinta diversa finalmente. Però dobbiamo riuscire a far ripartire anche altro. Non è bastevole questo. Dobbiamo cominciare a pensare anche agli investitori privati. Io ho incontrato qualche gruppo di investitori privati esteri che vorrebbero venire da noi ad investire. Hanno paura però. Voi direte avranno paura per la criminalità organizzata. Sì, però sono coscienti del fatto che le nostre istituzioni, che le nostre forze dell'ordine sono pronti a difenderli e sanno che lo sappiamo fare bene e in maniera adeguata. E quindi non era quello lì il problema. Mi ha detto uno di questi, il Presidente di una di queste associazioni mi ha stretto la mano e mi fa il suo discorso interessante. Però le dico una cosa. Noi oggi ci stringiamo una mano. Domani io potrei avvisare tutte le imprese, chiamare tutte le imprese siciliane che fanno un movimento terra, tutte le persone che lavorano nella cartenderia metallica, i muratori, tutte le aziende di ingegneria per le progettazioni. Potrei chiamare le aziende di edilizia e richiamarle e fare venire qui per cominciare a lavorare. Ma le vostre autorizzazioni dalla Regione quando arriva. Perché è questo, è questo il Grimaldello, è questa la chiave di volta, è questa la cosa che gli spaventa di più. Le lungaggini di una burocrazia che non finirà mai, che non finisce mai. E allora siccome io già i miei assessori, come vi dicevo, li ho nominati, ho già parlato con il nostro assessore alle infrastrutture e gli ho detto Salvo, si chiama Salvo Corallo. Ho detto Salvo, devi prevedere un dipartimento che si deve occupare delle grandi opere, devi snellire all'osso l'elita al burocratico. Dobbiamo far capire a tutto il mondo che chi vuole investire da noi avrà risposte certe, avrà risposte veloci, ceneri e chi vorrà investire da noi sarà il benvenuto. E la Regione gli sarà amica, la Regione sarà un partner istituzionale credibile e soprattutto concreto e non sarà più il nemico pubblico numero uno che è stato fino ad oggi. Perché per troppo tempo abbiamo avuto sete di infrastrutture, abbiamo avuto sete di strade, di ferrovie, per troppo tempo abbiamo avuto sete di modernità, di civiltà, di autosede di civiltà, sempre. Basta, dobbiamo dissetare questa nostra voglia di vivere in una Regione che è uguale alle altre, di vivere in una Regione che ormai ha degli standard europei, ma soprattutto dobbiamo rinnegare a noi stessi ancora la facoltà, non dobbiamo più permetterci di essere rassegnati. La rassegnazione è la Lombardia, noi siamo in Sicilia, alzando le spalle, noi dobbiamo invece puntare al primo posto la rassegnazione dei mediocri, alla virtù dei mediocri, noi non siamo un popolo di mediocri, noi siamo stati il centro del Mediterraneo, noi abbiamo la più grande cultura, quando da noi c'era Federico II nel resto d'Italia c'era l'era dei comuni, di chi stiamo parlando? È una cosa meravigliosa quella che è la nostra storia, la rappresentazione. Allora non possiamo permettere ancora di rimanere rassegnati, la rassegnazione ha prodotto la classe politica che ci ha guidato e io non sono d'accordo con chi sosteneva che la classe politica è lo specchio del popolo, il popolo ha la classe politica che si merita, non è vero, perché troppo, troppa gente, troppi siciliani ho incontrato in questi anni per capire che il popolo siciliano è nettamente migliore superiore rispetto a chi l'ha governato, nettamente. La sanità, altra priorità importante, tanti di voi incontro, la rete ospedaliere va riscritta, non funziona, una rete ospedaliere che è figlia di alla burocrazia, studiata su un tavolo piano, senza tenere conto di quelle che sono le oggettive necessità di un territorio, la geografia, l'aurografia, i tempi di percorrenza delle strade, la qualità delle strade che abbiamo. La balduzzi e tutta la rete ospedaliere fatta poi all'interno dell'assessorato non ha tenuto conto, ma tu fai diventare un fenomeno burocratico l'esistenza in vita di un punto nascita, l'esistenza in vita di un reparto, di un pronto soccorso, semplicemente col numero di accessi, semplicemente col numero di parti. Ma questa è una follia burocratica e la sanità non ha nulla a che fare con la burocrazia, la sanità ha a che fare con i bisogni della gente, con i bisogni primari dei cittadini e non puoi scriverla su un foglio di carta, non puoi analizzarla su un tavolo in piano, devi girare i territori, devi ascoltare, devi vedere, devi guardare. Allora va rivista questa rete ospedaliera, concertando con i territori, parlando con i comitati, con i medici, medici e infermieri ai quali va il mio sostegno, la mia solidarietà e soprattutto il mio ringraziamento e lo dico ogni sera, da ogni palco, ogni giorno, perché grazie a loro e al loro impegno che questa sanità siciliana non è andata a picco, perché grazie a loro e per il fatto che sono in grave deficit di personale, ma hanno comunque continuato a dare un servizio, la presenza dello Stato nei territori, la presenza della sanità per i cittadini. Poi magari non saremo contenti, però rivolgetegli uno sguardo ogni tanto, dategli la mano, perché guardate che è grazie a questa gente qui, se non siamo davvero povati a picco. Ora però è il momento di risolvere questo problema, dobbiamo cominciare ad avere più medici e più infermieri e allora dovremo stabilizzare i precari che ci sono all'interno degli ospedali, ma soprattutto dovremo avviare dei concorsi, perché noi dobbiamo cambiare, questo è un punto sul quale io mi batterò fortemente. Io voglio che le visite mediche, gli esami da fare nelle strutture pubbliche siano reali e che le liste di attesa vengono abbattute. Come fai? Innanzitutto dobbiamo fare come fanno le altre regioni, con più medici e più infermieri puoi programmare le visite non dalle 8 alle 14, ma dalle 8 alle 23 di sera, tutti i giorni, perché dobbiamo avere il diritto di poterci prenotare e andare a fare una visita in tempi certi e accettabili. Dall'altra parte dovremo chiedere ai medici di famiglia che stanno già facendo un gran lavoro di diventare anche medici della prevenzione, attraverso le case della salute, dovranno diventare parte del sistema sanitario regionale in maniera ancora più presente. Ma l'ultima cosa, ed è quello che racconto ogni sera perché a me ha fatto molto arrabbiare, l'altro giorno ho incontrato una ragazza al quarto mese di gravidanza e mi ha raccontato questa storia, mi ha detto, sai ho avuto dei problemi, sono andata dal mio medico, dal mio ginecologo e mi ha detto che devo fare immediatamente una visita, devo prenotarmi una visita perché forse ho dei problemi, forse il rischio di perdere mio figlio, è un problema grave. Allora sono andata immediatamente a prenotare, ho chiamato il centralino dell'ospedale per sapere quando questa visita ecografica l'avrei potuta fare nel mio ospedale di zona, nel mio ospedale pubblico, nell'ospedale della mia regione, del mio Stato e quando ha chiamato la persona dall'altra parte gli ha risposto, la sua visita è possibile fra un anno. A me ha fatto arrabbiare, sta facendo arrabbiare anche voi, perché questo è un insulto non solo all'intelligenza ma alla gravità della situazione di quella donna che in quel momento era realmente preoccupata, questa suona come una presa in giro disgustosa, ma la cosa che mi ha indignato di più è che quella telefonata si è conclusa come si conclude qualunque telefonata che avete fatto anche voi quando avete prenotato una visita, perché quella voce gli ha detto però guardi che lo stesso medico che la visiterà fra un anno, volendo domani la potrebbe visitare a pagamento. Non va, non va. Allora aumenteremo il numero delle ore delle visite, snelliremo assolutamente le liste d'attesa, ma dovremo affermare un principio e su questo principio io non indietreggio e chiunque mi dice dove trovi soldi gli dico dai 9 miliardi e mezzo che ogni anno spendiamo nella sanità. Non ci sarà più un cittadino postretto da nessuno ad andarsi a fare una visita in una struttura privata a pagamento, perché i denari non li dovrà più uscire lui, li ripagherà la regione. Se noi non saremo in grado di fornire ai cittadini del servizio pubblico regionale una visita entro tempi certi e ragionevoli, si farà carico la regione siciliana di pagare questa cosa, perché per me è un punto d'onore. Io non mi indietreggio di questa cosa. Vi dico l'ultimo aspetto, che è quello del turismo, perché la visione che vi avevo dato all'inizio era quella, la più grande impresa di turismo del mondo. Dobbiamo avere degli assessori al turismo seri, validi. Dobbiamo cominciare a pensare a persone che devono avere una visione lunga, una visione allargata, ma soprattutto dobbiamo cominciare a mettere in quell'assessorato una cosa che in questi anni non c'è mai stata, i soldi. Un fondo per il turismo di milioni di euro, di parecchi milioni di euro. Perché ora vi spiego qual è l'idea. Che l'altro giorno ho spiegato ad un gruppo di imprenditori, ad un gruppo di imprenditori che si occupano di ricettività, di turismo nella nostra terra. E all'avvio, quando glielo spiegate, in quei 30 secondi, mi hanno guardato e mi hanno detto, tutto qui, tutto sì, tutto qui. Mi hanno detto, caspita, è geniale. C'è talmente semplice che la capirebbe un bambino, ma è davvero geniale. Ma com'è che non ci hanno pensato prima? Ma com'è che non ci ha mai pensato nessuno prima? In realtà non ci abbiamo pensato neanche noi. In realtà noi quell'idea l'abbiamo copiata. L'abbiamo copiata da altri paesi, da altri paesi nel mondo che in questi anni sono diventati da paesi agricoli, paesi fortemente turistici e hanno addirittura non messo al lavoro tutti i loro cittadini, ma hanno cominciato a richiamare gente da fuori, dagli stati limitrofi, dagli stati confinanti. Perché gli hanno detto, guardate che ci servono altre braccia per accogliere i turisti che stanno venendo. Ci sono altri posti di lavoro disponibili, se li volete venite da noi. E sapete qual è l'idea? L'idea è quella di studiare i flussi turistici più corposi, più numerosi. E allora vi faccio degli esempi, potremmo scegliere che nel 2018 è l'anno della Germania, nel 2019 è quello degli Stati Uniti, nel 2020 potrebbe essere quello della Francia, o della Russia, o della Cina, o del Giappone. Scegliete voi. Per ora facciamo solo degli esempi. E metti quel fondo a disposizione dei tour operator che devono andare a parlare con quella nazione. E gli dici, vai in Germania visto che il 2018 è l'anno della Germania, e dia a tutti i turisti tedeschi che vogliono venire da noi per destagionalizzare, per fare turismo tutto l'anno, tranne luglio e agosto, perché già siamo coperti lì. E gli dai questa notizia. Chi viene da noi, ed è un cittadino tedesco, nel 2018 non pagherà il 30% in meno sui voleri, il 30% in meno sulle strutture ricettive, il 30% in meno sui servizi che servono. E i soldi li pigliamo dal fondo. È finita. È questa l'idea. Nel 2019 la facciamo con un altro paese, nel 2020 con un'altra. Io vi do un dato fondamentale, che è questo. Unicredit, l'istituto bancario, qualche settimana fa ha fatto un report sul turismo per il 2016. La regione siciliana è al nono posto, al nono posto, fra le 20 regioni italiane. Facciamo 15 milioni di visitatori ogni anno. Il Veneto, che è la prima regione, fa 63 milioni di visitatori l'anno. Un dato incredibile. La sola città di Rimini fa 15 milioni di visitatori l'anno nel 2016. Una città contro una regione. Una città contro una regione che ha sole, mare, che ha beni culturali, che ha il maggior numero di siti dell'UNESCO. È una cosa incredibile. E non me lo spiego neanche. E allora noi dobbiamo cominciare a raddoppiare questi numeri, a triplicarli, a quadruplicarli. Anzi, vi dirò di più, perché mi sono pure messo in testa quest'idea. E mi batterò finché questa cosa diventi realtà. Perché mi sono pure stancato di puntare sempre ai primi posti. No, no, no. Io voglio puntare al primo posto. Noi fra cinque anni dobbiamo essere la prima regione in quella classifica lì. La prima. E sapete perché voglio che diventiamo la prima? Non perché voglio che ci siano milioni di turisti in più. Ma perché il Veneto, sui 63 milioni di persone che arrivano lì da turisti, occupa 350 mila persone nel settore della ricezione turistica. Occupa 350 mila persone ad accogliere questi turisti in tutti i rami dei servizi che servono. Noi, i 15 milioni, ci mettiamo soltanto 66 mila addetti al turismo. E allora si aumenti i turisti e aumenti i posti di lavoro per i nostri. E cominciamo a lavorare ancora di più. E allora è investire sul nostro futuro. È investire sulla nostra qualità. È investire sul nostro lavoro. E poi diciamocelo tutti. Noi abbiamo, come vi dicevo poco fa, il maggior numero di siti UNESCO, i beni culturali. Noi abbiamo le bellezze architettoniche, artistiche. Noi abbiamo i nostri centri storici meravigliosi. Noi abbiamo le bellezze naturali, il sole, il mare, il cibo, l'agricoltura di qualità, i prodotti del mare. Sappiamo metterli in tavola. L'enogastronomia, i vivi. Ma abbiamo una cosa che gli altri non avranno mai. Noi, i siciliani, che siamo un valore aggiunto ad ogni esperienza turistica di persone che arrivano qui. Chiunque ha conosciuto i siciliani ha sempre detto che sia un'esperienza meravigliosa. E noi dobbiamo batterci per questo. Dobbiamo batterci affinché diventiamo finalmente la prima regione in questo settore. Io non ho altro da dirvi. Il programma è vastissimo. Andatevelo a leggere siciliacinquestelle.it. C'è il programma. Lo scaricate. Ci sono prima delle pillole. Gli altri ne ho fatto delle supposte. E poi scaricatevi il programma per intero. C'è entro tre pagine. Sarà una bella e discorsivo. Vi raccontiamo una storia. In quel programma il racconto è un libro. Il titolo è La Sicilia che abbiamo nel cuore. La Sicilia del futuro che vogliamo per noi, per i nostri cari, per i nostri figli. Però soprattutto quello che vi chiede, del grande invito che faccio. Io non posso chiedervi il voto. E non ve lo chiederò. Non l'ho chiesto a nessuno fino ad oggi e non lo farò fino all'ultimo giorno di campagna elettorale. Io quello che vi chiedo è di fare una cosa diversa. Innanzitutto di andare a votare. Perché è molto importante. Perché a me... No, 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 no. Di andare a votare e basta. La chiudo lì. E vi spiego il perché. Perché mi preoccupano le persone che fanno il voto di scambio. Mi preoccupano le persone che hanno i voti di apparato. Mi preoccupano le truppe cammellate dei partiti. E sapete perché? Perché loro sono stati astuti. Ci hanno spinto nell'area del non voto. Ci hanno fatto schifare. Ci hanno fatto nauseare. E lo hanno fatto scientificamente. Anche io per un periodo sono stata una persona che non andava a votare. Poi a un certo punto ho detto, caspita, ma che sta succedendo? Non vado a votare e invece di avere un risultato ci sono sempre questi. E allora ho capito che se tu non vai a votare, votano in pochi. Votano, facciamo un esempio, in 200. E 100 sono quelli del voto da apparato. E 100 sono quelli del voto di clientela. E 100 sono quelli del voto di scambio. E allora loro sono il 50 per cento e hanno una forza consistente. Ma se liberiamo le mani, se andiamo a votare e se sempre più gente con le mani libere che non deve dire grazie a nessuno va a votare, allora diventiamo 2000. E quei 100 del voto di scambio diventano un dettaglio, diventano una sfumatura, diventano un particolare. E non ci riguarderanno più, li cancelleremo. Dobbiamo fare questo. E allora vi do una cosa sì, vi chiedo di farla. Da qui al 5 di novembre convingete tutte le persone che conoscete che non vogliono andare a votare. Raccontategli questo esempio dei numeri, dei 200, dei 100, del 50 per cento, dei 2000 e del 5 per cento. Raccontategli di una sigilia che si libera solo se partecipiamo alla vita pubblica nella nostra regione. Raccontategli di una sigilia che abbiamo nel cuore e che si può avverare con la nostra intelligenza collettiva. Raccontategli una storia, raccontategli una visione e chiedetegli di crederci. Perché dobbiamo credere oggi, dobbiamo cominciare a credere che qualcosa può cambiare. Loro saranno sempre lì. Loro saranno sempre lì a guardarci, ad additarci, a dire che ci pensano loro, gli uomini soli al comando che sono venuti da noi a dirci che avrebbero risolto i nostri problemi. Non l'hanno fatto. Allora il 5 è un referendum sui partiti però. Da un lato ci sono quelli che questa regione l'hanno sempre governata. Perché, ve lo ricordo, accanto a Musumeci c'è la Galla. La Galla era l'assessore alla sanità di Cuffaro, quello che ha distrutto la sanità in Sicilia e che lo Stato è venuto da noi a dirci. Adesso avete sforato e avete ridotto il rosso, avete creato un buco di bilancio enorme di milioni di euro. Adesso dovete andare in piano di rientro. E per il piano di rientro devi aumentare le aliquote dell'IRAP e dell'IRPEF al massimo. Noi siamo stati per dieci anni la regione con la tassazione più alta d'Italia. Una vergogna. Ed è quello lì. E alla sinistra di Musumeci siete una persona che dovrebbe essere il suo vicepresidente, che è Gaetan Armao, che è stato l'assessore al bilancio di Raffaele Lombardo. E non mi pare che la situazione sia andata meglio in quel caso. Non mi pare. Per cui questi, la regione, l'hanno già governata. L'hanno già governata. I risultati li hanno già prodotti. E sappiamo come l'andranno a governare di nuovo. E dall'altro lato ci siamo noi. Che questa responsabilità non ce la siamo mai presa. E ce la vogliamo prendere. E se è la nostra strada. Ci vogliamo prendere questa responsabilità. Perché vogliamo portare le idee dei cittadini dentro quelle istituzioni. E cominciare a risolvere un po' dei problemi dei sigiliani. Non sarà facile. Ma io sono convinto che tutti insieme potremo riuscire in questa impresa. Viva Siracunta e viva la Ficina. Luigi Di Maio! Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Abbiamo fatto almeno 7.000 chilometri in tre mesi per la Sicilia. Io qui ci vengo da cinque anni. Da quando Giancarlo e gli altri sono entrati all'Assemblea regionale siciliana. C'ero quando è stato presentato il progetto che con la restituzione degli stipendi portavano avanti dei progetti di riqualificazione urbana. Si chiamava Boom Polboni Urbani. C'ero quando tagliandosi gli stipendi hanno fatto partire nuove imprese in Sicilia che hanno dato lavoro a qualche siciliano che stava per espatriare. C'ero quel giorno in cui tagliandosi gli stipendi in 30 giorni hanno costruito una strada che bypassava un ponte crollato. Per costruire la strada ufficiale lo Stato ci ha messo un anno e ci ha messo dieci volte i soldi che ci abbiamo messo noi. Ci sono sempre stato in questi anni. Ho imparato a conoscere questa terra. Io sono un cittadino del sud, sono campano della provincia di Napoli. Ho avuto modo di conoscere le affinità che ci sono tra la mia e la vostra regione, le diversità. Ho conosciuto la Sicilia e come sempre chi conosce la Sicilia se ne innamora. Si innamora della sua personalità ma anche dei suoi difetti. Si innamora delle sue bellezze ma delle sue contraddizioni. E questa è una regione incredibile. Ed è incredibile perché se potessi descriverla quando la descrivo fuori dico sempre abbiamo passato una vita a viaggiare per il mondo per vedere bei posti in vacanza e poi vieni in Sicilia e li trovi tutti su una sola isola quei bei posti. Questa è la Sicilia. Solo che quando la vedi e quando vedi le sue bellezze ti fai delle domande. E io che conosco i dati su questa terra perché li ho seguiti con molta apprezzione in questi anni, vi faccio domande relative a dati inquietanti. Com'è possibile che una regione così bella sia la prima in Italia per rischio povertà? Più di un siciliano su due è a rischio povertà. Com'è possibile che solo nel 2015 97.000 siciliani siano andati via dalla Sicilia, 11.000 all'estero e il resto in altre regioni italiane? Com'è possibile che sia l'ultima regione d'Italia per raccolta differenziata, 12%, e abbia il doppio della disoccupazione generale. A livello nazionale la media è 11%. Voi avete il 22% di disoccupazione e il 57% dei giovani, che è una fetta enorme, non ha lavoro. Guardate bene, io dico questi dati perché subito dopo la vostra viene la mia. Non è che navighiamo in acque migliori, però voi avete un potenziale incredibile che si chiama Statuto Speciale. E se noi stiamo dando tanto per questa campagna, credetemi, io ho sempre sostenuto tutti i nostri candidati, anche quando stavano all'1%, ci sono sempre stato, mi sono fatto tutte le piazze e ho portato avanti sempre le nostre liste, anche quando c'era il rischio di non far entrare nessuno, ma noi c'eravamo sempre. Ma per questa campagna stiamo cercando di dare tutto quello che abbiamo. Negli ultimi tre mesi sono stato due mesi e mezzo qui con Giancarlo, perché c'è una ragione fondamentale. Se vinciamo qui non è come governare un comune, non è come governare una regione qualsiasi. Qui con lo Statuto Speciale, una legge regionale per i siciliani, è più efficace di una legge per i siciliani fatta a Roma, perché voi avete un potere incredibile nelle mani. Chi si astiene perché pensa che la regione non serva a niente è perché non conosce i reali poteri di questa regione, che è una regione che ha avuto dei poteri incredibili, dati in mano alla classe politica sbagliata, che ha usato quei poteri contro di voi e non per voi. Ma adesso ci dobbiamo andare a riprendere quei poteri speciali. In Lombardia e in Veneto oggi hanno fatto un referendum per provare a prendersi un po' di quell'autonomia, un decimo dell'autonomia che voi già avete tra le mani e di cui non vi rendete conto in alcuni casi, perdonatemi se lo dico, avete i beni culturali come la Valle dei Templi, come le bellezze di Siracusa, come le bellezze di Ragusa o di Selinunte, non sotto il Ministero dei beni e dell'attività culturale, dei beni culturali, ce ne avete sotto l'assessorato ai beni culturali. Significa che nella mia regione dobbiamo andare a pregare il Ministero per fare delle cose sui beni culturali. Qui voi avete l'assessore, risolvete la partita a Palermo, così sul turismo, così sulle infrastrutture, così sull'acqua, così sulla sanità, soltanto che vi ho citato tutte cose che a voi ricordano dei problemi. Nessuna di queste è una cosa che va bene. Vi ho citato dei punti che ricordano dei problemi, io più di acqua, sono tutti problemi, però sono grandi opportunità se cominciamo a sfruttarle bene. C'è una cosa, prima di tutto, che dobbiamo dire. Qui non stiamo portando grandissime soluzioni, non vi stiamo portando chissà quali soluzioni, perché io so benissimo che come vale a Roma, vale anche a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana e alla regione siciliana, al Palazzo della regione siciliana. Quando apriremo i cassetti, troveremo fiorfior di consulenze, pagate a fiorfior di consulenti che in questi anni avevano già proposto alla politica le soluzioni ai vostri problemi. Però come succede a Roma, anche qui, quando si pagano i mega esperti per avere delle soluzioni, poi quelle le soluzioni te le portano. La prima domanda che pone ad un esperto è dove ritrovo i soldi per rifare le infrastrutture? Dove ritrovo i soldi per rimettere a posto la sanità? Dove ritrovo i soldi per rimettere a posto quella che è la scuola dei nostri figli? E l'esperto ti risponde sempre. Se spendi 17 milioni di euro di vitalizi, hai un problema. Se continui a pagare tre volte lo stesso lavoro con gli appalti alla sanità, aiutando gli amici degli amici, non hai i soldi per i reparti di infanzia, per i reparti delle nascite, per gli ospedali. Se riscuoti 480 milioni di euro di tasse anziché 5 miliardi, cioè la regione siciliana riscuote l'8% delle tasse che si devono riscuotere. Voi direte, ma a noi le riscuotono sempre, anzi appena non paghiamo qualcosa ci arrivano le cartelle esaltoriali e c'è qualcuno che qui non le sta pagando perché avete una regione che fa la debole con i forti e la forte con i deboli, come è sempre stato in tutto lo Stato, vale anche per la vostra regione. Allora che succedeva? Che gli presentavano la lista della spesa e le cose da tagliare per mettere i soldi nei posti giusti. Gli esperti questo hanno fatto in questi anni, quelli onesti, quelli che prestavano una consulenza professionale, una consulenza brava, una consulenza buona. Dicevano guarda tu i soldi ce li hai, ma li stai mettendo nel posto sbagliato, li devi cominciare a spostare sulle poste di bilancio giuste, sulle priorità dei siciliani. E la reazione era sempre, vabbè, dammi sta consulenza, arrivederci. Lo licenziavano e la mettevano nel cassetto. È successo pure a Roma. Quante volte avete sentito parlare del commissario alla spending review, queste parole inglesi per non farci capire nulla, era quello che doveva dire al governo tagliate le spese inutili. Allora, quelli, sono stati quattro, gli dicevano tagliate le spese inutili. La prima voce che metteva qualsiasi commissario alla spending review era, vede, presidente del Consiglio, abbiamo 8.000 società partecipate in Italia, ne basterebbero 200, ma mi accontento anche di 7.000, ne dovete tagliare 7.000 almeno. E non perché dovete mandare i dipendenti a casa, perché i dipendenti ci servono nella gestione di quei servizi. Il problema è che solo i consigli di amministrazione ci costano 9 miliardi di euro. Togli quelle partecipate, accorpi i servizi, elimini i CDA. Che succedeva? Sempre la stessa cosa. Sindaci e Presidenti di Regione, che erano la maggior parte del partito di governo, chiamavano il Presidente del Consiglio e dicevano, se tu non vuoi che domani mattina me ne vado dal partito e ti pianto un casino, ferma questo pazzo di commissario alla spending review. E ne hanno fatti fuori 4. L'ultimo era Cottarelli. Ma i piani sono ancora lì, al Ministro dell'Economia e Finanze. Noi li utilizziamo, quei piani, per individuare le coperture del reddito di cittadinanza a livello nazionale. Così poi ci dicono, ma non ci sono le coperture, ma questo l'ha scritto uno che l'avete pagato voi. Questi soldi li ha trovati uno che l'avete pagato voi. Non l'abbiamo pagato voi. E questo vale anche per le vostre infrastrutture. Voi per anni, la Siracusa Gela, la Palermo Catania, la Messina Catana e così via, quegli assi autostradali sono incompleti, perché la maggior parte dei soldi sono andati o a pagare i mega stipendi dei dirigenti del CAS, Consorzio Autostradale Siciliane, oppure per pagare i consulenti che mangiavano intorno a quell'opera, ma anche il ponte sullo stretto. Al di là dell'opera, voi avete già pagato 300-400 milioni di euro solo di consulenze su quel ponte. E mentre ci facevano litigare, ponte sì, ponte no, c'era già qualcuno che ci guadagnava centinaia di milioni di euro. Per fare quella cosa che sto dicendo io, cioè tagliare quello che non serve e iniziare a investire dove serve. Serve qualche scienziato? Secondo me serve un buon padre e una buona madre di famiglia, perché lo fa ogni giorno nella sua famiglia quando ci sono difficoltà. Taglia una settimana di vacanze e paga la retta universitaria al figlio che magari sta fuori. Taglia quello che non serve e paga la scuola al suo figlio o compra da mangiare. È sempre stato così nelle nostre famiglie, lo ha sempre fatto anche mia mamma e l'hanno sempre fatto mio padre. Il tema è un altro. Il tema è che per recuperare quei soldi devi avere gente che ha la volontà e la sensibilità politica di tagliarli quei soldi. E chi prende il vitalizio in questa regione non taglierà mai il vitalizio. Chi si è nutrito degli enti inutili mettendoci gente sua non li taglierà mai gli enti inutili. Chi ha nominato gli uomini suoi a capo della sanità per farla diventare un bancomat politico, la sanità non la metterà mai a vostro servizio perché pretende che sia a suo servizio e della sua carriera politica. Allora noi abbiamo bisogno di mandare a casa quella classe politica che vi ha preso in giro per 30 anni dicendo che voleva risolvervi i problemi e non li ha mai risolti perché non aveva la libertà di risolverli, non aveva l'autonomia e la sensibilità per risolverli. E io non dico che noi siamo perfetti. Guardate, per carità, noi abbiamo fatto errori, gli abbiamo chiesto scusa, siamo una forza politica giovane e quando si fanno le cose in politica si può sbagliare. Però credo che abbiamo un po' di credibilità in più rispetto agli altri quando veniamo a dirvi vogliamo tagliare gli sprechi perché gli altri non se li sono tagliati in quanto non esisteva una legge che tagliava i privilegi ai politici di questa regione. Ma noi una legge non abbiamo aspettata per tagliarci il nostro vitalizio, il nostro stipendio, le nostre auto blu e tutti i privilegi che c'erano intorno ai nostri 13-14 euro deputati regionali. Io ho rinunciato al mio vitalizio un mese fa, ho rinunciato al mio doppio stipendio da vicepresidente della Camera, alla mia auto blu con cui potevo venire qui e al mio volo di Stato. Ho rinunciato a metà del mio stipendio e tutti questi soldi li ho messi in un fondo insieme a tutti gli altri deputati, insieme a Maria, li abbiamo messi in un fondo e ci abbiamo fatto un microcredito a chi voleva aprire un'impresa in Italia. Abbiamo creato 7.000 nuove imprese in Italia che danno lavoro a circa 17.000-18.000 italiani. Non è tanto. Sappiate tra l'altro che di questi 22 milioni di euro che noi abbiamo restituito il 20% è arrivato in Sicilia e ha creato dei posti di lavoro e delle nuove imprese. Non è tanto. Non abbiamo risolto i problemi dell'economia italiana, ma vi stiamo raccontando un modello di paese diverso. Noi quello che abbiamo applicato a noi non vediamo l'ora dal governo della regione di applicarlo a tutti quanti gli altri con una legge che taglia gli vitalizi e gli dimezza gli stipendi. E non sono temi marginali. Io sono il primo a dire che tutti i problemi di questo paese non li potremo risolvere tutti tagliando gli sprechi. Infatti dopo voglio spiegarvi un'altra cosa. Ma sono il primo a dire, e ci credo tanto, che se noi dobbiamo chiedere alla popolazione tempo per insieme cambiare questa regione, anche facendo qualche sacrificio, i primi a fare i sacrifici dobbiamo essere noi. E tra l'altro rinunciare ad una pensione dopo 4 anni e 6 mesi non mi pare fare un sacrificio. Significa fare una cosa giusta perché qua si va in pensione a 67 anni con 42 anni di contributi. E a noi spettava dopo 4 anni e 6 mesi in Parlamento una pensione da 1000 euro al mese. A 65 anni tra l'altro. 43, chiedo scusa. Ora, 43 anni giustamente diciamo. Ora, io penso che questo sia il punto di partenza. Poi dobbiamo chiarirci un attimo. Perché come regione siciliana potremmo fare tantissimo. Ma io credo tanto nel 5 novembre, perché il 5 novembre voi avete in mano una responsabilità ancora più grande, senza voler caricarvi di nulla e senza voler strumentalizzare nulla. Però, se sarete in grado di mandare a casa questa ammucchiata di impresentabili, di partiti che si mettono insieme per provare a battere Giancarlo Cancelleri, voi sarete un virus positivo che contaggerà il resto dell'Italia. Perché nel 2012 voi ci avete fatto diventare la prima forza politica della regione. Avete deciso di votare come governatore Crocetta, come presidente della regione e ve lo siete ritrovato presente per 5 anni. Noi però siamo diventati la prima forza politica della regione, da zero. Non avevamo neanche un deputato regionale nel 2012. E non avevamo neanche un consigliere comunale in tutto il sud Italia allora. Perché il movimento nel sud Italia non attecchiva nel 2012. 5 anni fa non avevamo nulla. Io mi ricordo che dopo che deste quel segnale, i miei concittadini campani vennero da me, molti a dirmi, ma se i siciliani stanno dando questo segnale, allora ci dobbiamo credere anche noi. E così cominciarono a crederci i pugliesi, i calabresi, i lucani e via via, dopo 4 mesi e mezzo, alle politiche del 2013, siamo diventati la prima forza politica della nazione, grazie al segnale che deste voi siciliani pochi mesi prima. Perché vi sto dicendo questo? Perché dal 5 novembre passa anche l'opportunità di andare al governo del Paese. E vi dico che non c'è una legge elettorale che potrà fermare il corso della storia. Potranno fare le leggi elettorali contro di noi quanto vogliono. Ma se gli italiani vanno a votare e non vanno a votare per loro, possono pure scrivere che il Movimento 5 Stelle non si può presentare alle elezioni. Noi un modo lo troviamo per vincerle. E questo ve lo assicuro. anche perché stanno facendo un errore madornale. Loro stanno facendo una legge che non permetta a nessuno di vincere col 51%. Perché loro vogliono creare il caos per mettersi insieme PD e Forza Italia, come al solito, come da vent'anni, e governare insieme. Ma c'è una cosa che non hanno calcolato. È che oggi, come ieri e come sarà domani, perché è impossibile. In Parlamento, anche con questa legge, PD più Forza Italia non fa il 51% dei seggi. E a noi, anche se doveste dare solo 180 seggi, come siamo accreditati oggi, permetteranno con questa legge di essere determinanti, di essere il cuneo in mezzo a loro che non gli permetterà l'inciuscio e l'ammucchiata. E con quel cuneo, come prima forza politica del Paese, andremo dal Presidente della Repubblica e chiederemo l'incarico di governo. E lo potremo fare. Quindi qualsiasi legge metteranno in piedi. Saremo sempre determinanti. E lo saremo con più esperienza di prima. Perché io in questi cinque anni, la Vice Presidente della Camera, come noi, come gruppo parlamentare, abbiamo imparato tantissimo. Abbiamo imparato anche che il non si può fare non esiste in politica. La prima cosa che voglio dirvi è che per farci rispettare in Europa dobbiamo avere dei pesi contrattuali ai tavoli europei. E' inutile che andiamo lì a dire siamo l'Italia e ci dovete dare qualcosa. Non serve a niente. Perché Francia e Germania sono molto più brave di noi, sia nella contrattazione e sia quando si scrivono le leggi europee. Noi dobbiamo andare lì con una strategia ben precisa. Ed è questa. Voi avete gli agricoltori che se la passano male per i trattati, i pescatori che se la passano male per le direttive e per tutto quello che gira intorno alle regole europee e gli allevatori che hanno un serio problema legato a tutte le norme che girano intorno all'igiene, alla sanità e quello che riguarda il loro bestiamo. Queste regole sono state progettate da altri paesi europei per aiutare, e non gliene faccio una colpa, i loro comparti produttivi, non i nostri. La pesca segue le regole dei pescherecci del nord Europa. L'agricoltura segue le regole francesi, le imprese con i loro dipendenti seguono le regole delle piccole e medie imprese francesi e tedesche. Ma voi sapete quanto è grande una piccola impresa francese e tedesca? 100 dipendenti. In Italia il 95% delle imprese sono sotto i 10 dipendenti. Quando scrivono la legge per le piccole imprese in Francia o in Germania, stanno parlando di medie e grandi imprese per noi. Allora che cosa sto dicendo? che dobbiamo andare a quei tavoli e chiedergli, chiaramente, senza voler essere oltransisti o estremisti, queste regole non stanno funzionando e ci state danneggiando la nostra economia, in particolare quella siciliana. O le cambiate o le cambiamo e troviamo un modo per applicare regole differenti a situazioni differenti. Quindi voi francesi vi fate le vostre regole, noi ci facciamo le nostre e le possiamo concordare a livello europeo. Oppure, cari signori, noi di tasse all'Unione Europea diamo 20 miliardi di euro ogni anno per far funzionare tutta la giostra lì. E io gliele voglio dare se il progetto è nobile e serve a potenziare i nostri mercati e la nostra solidarietà internazionale. Ma se questi signori non vogliono ascoltarci, se gli altri paesi non vorranno ascoltarci, allora saremo molto onesti. Vi diamo 20 miliardi, ne rientrano 12 soltanto in Italia e in fondi europei. Vorrà dire che 4 o 5 ce li temiamo e li diamo alle imprese che state danneggiando con i vostri trattati. Vedremo se ci ascolteranno poi. Secondo me ci ascoltano, perché se gli togliamo 4 o 5 miliardi iniziano i problemi. Quello che io vi sto dicendo è una cosa che altri paesi europei hanno già minacciato. L'hanno fatto ovviamente con cortesia, perché in diplomazione non si minaccia mai. Si chiede per favore ci volete aiutare o vi togliamo 7 o 8 miliardi. Però ci sono riusciti. Perché quando io parlo con i vostri allevatori e i vostri pescatori mi parlano dei loro colleghi spagnoli e francesi. Voi avete pescatori siciliani che hanno un limite di miglia nautiche per andare a pescare e i loro omologhi spagnoli, non tunisini, spagnoli hanno un altro limite di miglia nautiche. E stiamo tutti e due nell'Unione Europea. Quindi gli spagnoli possono andare più lontano a pescare dei nostri. E lo stesso vale per gli allevatori, lo stesso vale per gli agricoltori nostri, per non parlare poi delle imprese in generale e dell'accesso al credito. Perché Francia e Spagna stanno più avanti di noi in questo? Perché hanno fatto una cosa, convincere la Commissione Europea che la ricetta che ci stava dando era sbagliata e ci stava facendo ammalare ancora di più. La ricetta è semplice. L'Unione Europea ci dice non dovete fare investimenti oltre il 3%, che è una cifra che non sto a spiegare un algoritmo, altrimenti aumentate il vostro debito pubblico. Però, stando nel 3%, il nostro debito pubblico segna un nuovo record ogni settimana. La Spagna che ha fatto? E guardate, questa ricetta non funziona. Fatemi fare gli investimenti nelle imprese per dare lavoro agli italiani. Fatemi fare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle ristrutturazioni per far ripartire l'edilizia. Fatemi fare gli investimenti nel turismo per far decollare sempre di più il comparto turistico e io ve lo ripago il debito perché farò più PIL e potrò fare nuovi investimenti per continuare a pagare il debito. Questo lo capisce qualsiasi imprenditore che è qui dentro, che non vende i macchinari per pagare i prestiti, perché magari lo paga quel mese il prestito, ma il mese dopo non ha più i macchinari per continuare a fare i soldi per pagare il prestito. Bene, la Spagna ci è riuscita e dove le ha messi i soldi? Nell'abbassamento del costo del lavoro. Un vostro concittadino, un rivenditore del comparto agricolo al mercato agroalimentare siciliano di Catania mi ha detto che prima lavoravo in Spagna, assumevo un dipendente, lo pagavo 1300 euro al mese e mi costava 300 euro di costo. In Italia 1300 gli eri dai netti e 1600 ti costa. Quindi alla fine ti costa il doppio del doppio di quello che gli dai e quindi non puoi assumere. Che ha fatto la Spagna? Ha preso un po' di soldi in deficit e li ha messi nell'abbassamento del costo del lavoro. Gli imprenditori assumono il lavoro, riparte, la gente spende e loro l'anno scorso hanno fatto più 3% di PIL contro noi che abbiamo fatto più 1%. La Francia fa un'altra cosa che richiede una lungimiranza che la nostra classe politica non ha mai avuto. Per quanto non è che la classe politica francese quanto sia avanti. È semplice. Loro hanno investito nelle politiche per la famiglia, per la crescita demografica. Perché qui ci saranno persone che vorranno sentir parlare di pensioni. Io la legge Fornero la voglio abolire e dobbiamo toglierla di mezzo. E siamo d'accordo. Però dobbiamo dirci anche un'altra cosa. Che quando si parla di pensioni bisogna pensare ai nuovi nascituri. Dobbiamo pensare alle nuove generazioni perché noi i fondi pensionistici li dobbiamo tenere in equilibrio. E per tenerli in equilibrio devi permettere alle persone che vanno in pensione di farsi pagare la pensione dai nuovi che iniziano a lavorare. Ora, noi siamo l'ultimo paese in Europa per crescita demografica. La Francia è il secondo paese in Europa. Cioè noi siamo l'ultimo che fa figli, la Francia è il secondo che fa figli. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa molto semplice. Hanno preso i soldi e li hanno dati alle famiglie quando fanno figli. E quindi ti pagano il babysitter, ti pagano i pannolini, ti pagano l'asilo, ti pagano l'assistenza, ti pagano fino al terzo figlio questa roba. Quindi una famiglia che vuole fare un figlio non è che lo fa perché ha questi sostegni statali. Ma se lo vuole fare può farlo. Anche perché l'Italia è il primo paese in Europa per desiderio di fare nuovi figli. Il primo. Ma siamo l'ultimo per nascite. E' l'ultimo che li fa. Quindi il problema non è che gli italiani non vogliono fare figli e che non possono farli. Perché non è mai esistito un piano per la famiglia e per le nascite. Se vogliamo cominciare a metterci in equilibrio con le pensioni, con la sanità, dobbiamo muoverci ma domani iniziare a fare le politiche che fa la Francia. E come le fa? In deficit. Pure loro sforano il 3%, fanno gli investimenti e tengono in equilibrio la società perché nascono più persone di quante ne muoiono. Qui invece muoiono più persone di quante ne nascono. E nel 2050, se continuiamo così, saremo il terzo paese più vecchio del mondo. Se continuiamo così. E poi le pensioni puoi fare quello che vuoi, ma non le puoi pagare così. Non le puoi pagare. Come non puoi pagare la sanità perché se invecchia la popolazione la spesa sanitaria aumenta. Ma dobbiamo dirci anche un'altra cosa sulla sanità. Che la sanità e la spesa sanitaria si abbatte cominciando a fare cultura dell'alimentazione nelle scuole, cominciando a fare cultura dell'ambiente e quindi smetterla di inquinarci la vita e di avvelenarci con questi distretti industriali che tra l'altro stanno fallendo e stanno solo licenziando persone. Abbassare la spesa sanitaria significa cominciare a investire nell'ambiente, investire nella cultura dell'alimentazione e farlo subito. ma tutte queste cose qua. Ma quando le vai a dire a uno a cui la campagna elettorale l'ha sempre pagata l'industria petrolifera, ti potrà dire anche sì, ma non lo farà mai. Quando vai a dire fatti rispettare in Europa e difendi i nostri agricoltori, quando lui ha già il posto prenotato dopo aver finito di fare il ministro dell'economia in una banca, in una delle tante banche europee. Voi andate a vedere tutti i ministri dell'economia che abbiamo avuto? Quasi tutti, e c'è l'eccezione che conferma la regola, hanno avuto dopo un posto nelle mega banche o nelle grandi finanziarie europee. Quindi li tenevano già al guinzaglio così. Gli avevano già detto guarda tu fai il bravo e dopo ti assicuriamo, poi puoi ritornare a fare il ministro perché poi sono le porte girevoli, entrano ed escono. Quindi escono alla politica e entrano nelle banche, escono alle banche e entrano nella politica. Questa roba qui l'abbiamo vista succedere tante volte. Si chiama conflitto di interessi, si chiama finanziamento privato. È tutto legale, ma è immorale, ed è la cosa che ci sta legando qui. Allora il tema degli impresentabili non è un tema, e lo ripeto pure io, legato al fatto che siamo fissati con i processi. Noi non siamo fissati con i processi né con gli arresti. Noi vi stiamo soltanto dicendo che in quella lista di impresentabili in cui il primo ha 30 capi d'accusa e prima o poi lo dovevano arrestare, infatti l'hanno arrestato, che se candidi uno con 30 capi d'accusa, uno di quelli prima o poi lo porterà in galera. Quindi sfidi anche la sorte. Questa gente qua è coinvolta nei reati e nei processi che riguardano i soldi delle vostre tasse che vi hanno tolto e che erano destinati ai vostri servizi. Quando hanno arrestato il sindaco di Priolo la notizia non è che l'hanno arrestato. A parte che la notizia non c'è stata, nessuno ne ha parlato. Ma al di là di questo fatto qui, andate a vedere per cosa è stato arrestato. Prendeva i soldi del comune che dovevano andare alle famiglie povere del suo comune e le dava a falsi poveri in cambio di voti. E tra l'altro, tra le altre cose, si era andata a fare cure termali a spese del comune insieme agli anziani del comune. La lasciamo perdere, gliele paghiamo se serve queste cure termali. Non è quello il punto. Il punto è che se andate a vedere questo elenco di impresentabili che sono nelle liste di musumeci, ci trovate tutti quelli che hanno sperperato sui vostri trasporti la vostra sanità la formazione regionale. Voi siete la prima regione per giovani disoccupati perché la formazione che doveva servire a reinserire i giovani è stata utilizzata come clientela politica. Io non ho tutte le soluzioni su questa roba qua, ma cominciamo a mettere un po' di fermi e di punti di riferimento. La sanità, rimettiamola a posto partendo dal fatto che i politici non nominano più i manager delle ASP. Togliamogli questa possibilità. Prendiamo dagli albi di merito la formazione. Io voglio formarmi per trovare un lavoro. Tu regione mi devi dare i soldi, io contatto l'impresa che mi forma e io mi vado a formare già nell'impresa. Eliminiamo i diplomifici, eliminiamo i centri di formazione che hanno creato tutto questo e il personale che ci lavora sarà il tutor di colui che va nell'impresa e che va a formarsi direttamente lì dove si lavora. Perché io per formarmi, mio padre, mio nonno si sono formati nel loro lavoro stando direttamente sul luogo di lavoro, affiancando la persona che lavorava che era la persona che gli insegnava è il lavoro. Non esiste una formazione lavorativa che non abbia il contatto con l'azienda, che non abbia il contatto col mondo del lavoro dove si lavora. E guardate che questo è uno dei tanti temi che ci ritroveremo ad affrontare una volta al governo di questa regione. E il mio sostegno, il sostegno dei nostri europarlamentari ci sarà tutto per Giancarlo Cancelleri, per risolvere il problema dei precari della pubblica amministrazione. È gente che dopo 30 anni di precariato merita un po' di serenità, almeno in vista della pensione. E dobbiamo farlo semplicemente creando una spesa strutturale che consenta a chi lavora nei comuni e che oggi legge in piedi i comuni la possibilità di lavorare serenamente e di non scannarsi con quel vicino di scrivania che invece ha il contratto a tempo indeterminato e lo percepisce lui come un nemico perché prima o poi gli ruberà il lavoro. E tutte queste dinamiche qui. E anche i forestali. Io ho imparato a conoscerli qui. Mettiamoli prima di tutto a lavorare al 100% dell'orario lavorativo e cominciamo a tutelare i nostri boschi. Cominciamo a capire prima se facendo lavorare a ore piene quella categoria riusciamo ad avere degli effetti sul nostro patrimonio boschivo, sul nostro patrimonio forestale. Poi vediamo. Poi vediamo chi lavora e chi no. Noi siamo stati quelli che a Roma, all'Atac, l'azienda più grande dei trasporti italiani, che l'azienda dei trasporti romani, l'Atac, abbiamo cacciato noi la parentopoli di Alemanno che si era assunto tutti i suoi amici lì dentro. Quindi se servirà, se ci saranno le ingiustizie, saremo noi i primi a intervenire. Come siamo stati gli unici che hanno ridotto del 98% le spese dell'Assemblea Capitolina. Vi costava 12 milioni di euro. Oggi meno di un milione l'Assemblea Capitolina. Questa roba qui l'abbiamo fatta noi cercando di dare il massimo, ma alla fine queste notizie non escono mai. Perché se dovessero uscire queste notizie, la verità è che voi iniziereste a chiederle ai vostri sindaci, ai vostri presidenti di regione che magari non sono del movimento. Però io ci credo molto perché noi non stiamo facendo questo per la gloria. Guardate che ci stiamo candidando e abbiamo buone possibilità di vincere nella regione siciliana nel suo peggior momento, dal punto di vista finanziario, burocratico. Ci sono 10 mila problemi. Noi ci vogliamo prendere una responsabilità che è quella di mettere a posto questa regione prima di espatriare pure noi. Perché o la cambiamo o ce ne andiamo anche noi, perché qui non c'è niente più da fare per come l'hanno ridotta per noi giovani, per chi ha 30 anni, per chi ha 40 anni. Ci sono veramente seri problemi. Ma se vogliamo cambiarla, allora questo è il momento giusto. Passa un solo treno e passerà il 5 novembre. Dopodiché questa occasione sarà irripetibile per almeno 20 anni. Perché voi poi vedrete di nuovo quegli impresentabili andare al governo della regione e continueranno a massacrarvi. E vi chiuderete tutti nel non voto, probabilmente. E questo è il vero dramma. Noi non vogliamo ammazzare la speranza e la sentiamo questa responsabilità. Per farvi capire quello che succede adesso tra pochi minuti appena finiamo. Giancarlo si mette in macchina e se ne va a Palermo. Domani va a incontrare gli agricoltori, le categorie degli agricoltori, fa un'intervista a Lanza e domani ritorna a Mister Bianco dove ricominciamo con le piazze tutto il pomeriggio in provincia di Catania. Noi stiamo cercando di raggiungere più persone possibili. Perché il valore di una piazza come questa è la possibilità di spiegarvi quello che vogliamo fare senza il filtro dei 10 secondi del Tg o dei 20 minuti del talk show in cui ti fanno 10 domande e tu hai due minuti di risposta per ogni domanda. Alla fine sembriamo tutti uguali. Diciamo tutte le stesse cose perché hai due minuti, alla fine hai gli slogan da dare, non hai delle risposte. Io avrò parlato mezz'ora, infatti adesso vi lascio. Ma questo mi ha permesso di raccontarvi cose che in tv non potrei raccontare, non ne avrei neanche il tempo. E parlare a più piazze possibili, a più persone possibili, entrare nelle imprese dove c'è il lavoro, andare a parlare con i dipendenti pubblici, con quelli che portano avanti la carretta nei comuni, nelle regioni e nelle province, significa andare a parlare direttamente con le persone. Siccome siamo l'unica forza politica rimasta che ha ancora la possibilità di fare questo perché agli altri sono fischi, pernacchi e broccoli, allora dobbiamo farlo al massimo. Lo dovremo fare al massimo. Ma voi ci dovete dare una mano. Vi prego non dateci una mano per il voto. Ve lo ripeto anch'io, portateli solo a votare, perché qui secondo i sondaggi c'è ancora il 50% dei siciliani che si astiene e sembra che si astenga perché pensa che la regione non serve a niente. Invece la regione siciliana, col suo statuto speciale, è la regione con più poteri in Italia. E se quei poteri li mettete nelle mani sbagliate, questa volta veramente si rischia grosso, sia con i bilanci, sia con l'occupazione che con il lavoro. Come se non bastasse la situazione che abbiamo oggi. Io voglio fare un ultimo appello perché la persona qui accanto a me si chiama Gabriele e ogni sera permette ad almeno 2.500 persone di vedere le nostre piazze. Anche adesso, prima ce ne erano collegate 2.000, siamo a 2.000. Di queste 2.000 persone, io prima stavo leggendo i commenti mentre parlava Giancarlo, molti sono all'estero, sono vostri concittadini all'estero. Non so se fanno parte della tranche dei 97.000 del 2015 che se ne sono andati o di quelli del 2016 o degli anni precedenti. Io a quelle persone voglio dire una cosa. So che siete lontane, le vostre famiglie fanno tanti sacrifici per tenervi lì oppure voi fate tanti sacrifici per tenere le vostre famiglie lì. Però il 5 novembre ci dovete dare una mano. E due sono le cose. O tornate e venite a votare oppure chiamate tutti quelli che conoscete e fateli votare per le elezioni regionali siciliane. Perché forse se riusciamo a battere la stensione forse potrete tornare qui. Perché finalmente inizieremo a mettere i soldi al posto giusto e a creare nuove occasioni di lavoro per tutti quelli che se ne sono andati e per quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere. Abbiamo tanto da fare, però dobbiamo iniziare a farlo seriamente. Noi ci crediamo molto e ce la metteremo tutta. Grazie Siracusa, grazie di essere stati con noi. Grazie. Grazie.